Semana è qua, c'è quante fatiche che le ha fatte, Leto Polo, il professore dei bigiatti, anche per ero i tempi dei gabbiai. Ecco a Beppi, il mese di genaro. Qua è il poeta, il poeta che l'ha scritto tanto, almeno quel che l'ha scritto resta. Le sere qua non si sa neanche come descrivere, se sono stelle e luna, è acqua che corre. Se guarda verso la luna, se è tutto un movimento, par che sia tutto lamine d'oro, e man mano che gira con la secca, con la colma, anche da notte i gambi e colori. Grazie a tutti.